Salve tutti amici di Spazio e bentornati sul nostro canale YouTube. Poche ore fa si è concluso l'evento di apertura della WWDC 2020 durante la quale Apple ha presentato i nuovi aggiornamenti fra cui iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, macOS, Big Sur e poi tante altre piccole novità di cui vi parlerò dopo la sigla. Prima di iniziare come al solito però vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ricordando cosa molto importante di attivare le notifiche facendo un clic sull'icona della campanellina. Iniziamo da iOS 14. Il nuovo aggiornamento introduce innanzitutto una rivoluzione dal punto di vista grafico grazie alla nuova visualizzazione a libreria, ai widget, in home e ad altre piccole novità che avevamo già ipotizzato con i nostri concept qualche mese fa e devo dire che in molti casi ci abbiamo preso alla grande. La visualizzazione a libreria permette di raggruppare le app per categoria in modo da ottenere una lista molto ordinata che non ha nulla a che fare con le cartelle perché sì, a primo impatto le ricordano molto ma qui le app possono essere cliccate direttamente si può accedere ad una sorta di drawer per categorie più grandi e poi vengono generate automaticamente dal sistema dando priorità ad app scaricate più di recente o utilizzate più frequentemente. Devo ammettere che avevamo un po' perso le speranze ma Apple ci ha stupiti molto positivamente introducendo finalmente i widget in home che sono molto simili a quelli che avevamo teorizzato nel nostro concept qualche mese fa. I widget sono disponibili in varie dimensioni all'interno di un'apposita sezione e possono essere aggiunti ad home e spostati esattamente come fossero delle app. Una volta posizionato il widget che preferiamo nella posizione che preferiamo le altre app si distribuiranno automaticamente all'interno della home in modo da rendere il tutto molto ordinato. Altra novità su cui avevamo preso alla grande era la nuova schermata delle chiamate in ingresso che siano vocali o FaceTime. Con il nuovo aggiornamento la chiamata non occuperà tutto lo schermo ma comparirà in alto in una veste molto compatta esattamente come fosse una notifica. In questo modo il sistema permette all'utente di non perdere di vista ciò che stava facendo e la stessa cosa vale anche per Siri che adesso una volta richiamata mostra una semplice animazione nella parte bassa dello schermo in modo molto poco invadente. iOS 14 porta su iPhone il Picture in Picture che per il momento era esclusiva di iPad esattamente come su iPad infatti anche qui sopra possiamo adesso continuare a guardare un video mentre utilizziamo altre applicazioni grazie ad una piccola finestra che possiamo all'occorrenza anche spostare e ridimensionare. Queste sono solo alcune delle novità introdotte da iOS 14 che tra l'altro continua a chiamarsi iOS e non iPhone OS contrariamente da quello che avevamo ipotizzato. Confermata la funzione CarKey che permette di memorizzare la chiave digitale dell'auto all'interno dell'app Wallet e permette quindi poi di condividerla tramite i message con amici o parenti confermata anche la funzionalità denominata AppClips che permette di aprire, citando Craig Federighi, una piccola parte di un'app nel momento in cui se ne ha bisogno senza avviarla del tutto. Questi pezzettini di app possono essere richiamati attraverso dei tag NFC visto che il lettore montato su iPhone è stato finalmente sbloccato del tutto ma anche attraverso appositi QR code di cui sentiremo sicuramente molto parlare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda le app di sistema iOS 14 introduce una nuova app chiamata Traduci che porta un traduttore istantaneo con supporto a 11 lingue sul nostro iPhone che si interfaccia direttamente con Siri. Migliora anche l'app Mappe che fra le altre cose adesso integra una sezione chiamata Guide capace di dare informazioni sui luoghi di interesse esattamente come lo farebbero delle guide turistiche e aggiunge un sacco di nuove funzioni ad iMessage. Innanzitutto grazie ai widget adesso possiamo aggiungere le conversazioni più importanti direttamente ai nomi in modo da accedere istantaneamente alla chat quando è necessario e poi sono state aggiunte finalmente anche le menzioni ai messaggi così da fare ordine una volta per tutte nelle chat di gruppo. Adesso naturalmente stiamo passando a rassegna molto velocemente tutte quelle che sono le novità principali presentate durante la WWDC 2020. Nei prossimi giorni naturalmente pubblicherò dei video dedicati ai singoli aggiornamenti dove vi mostrerò nello specifico le singole novità. iPadOS 14 oltre alle novità già viste su iOS 14 come widget in home, visualizzazione a libreria e schermate più compatte per quanto riguarda Siri e chiamate introduce caratteristiche esclusive pensate appositamente per iPad. Una delle più importanti è Scribble che sfrutta l'intelligenza artificiale per riconoscere ciò che viene scritto o disegnato a mano con Apple Pencil permettendo quindi all'utente di disegnare forme geometriche precise o di rendere dinamici elementi come numeri di telefono o eventi da aggiungere direttamente al calendario, giusto per citarne alcuni. Con Scribble si potrà scrivere direttamente a mano all'interno dei vari box di testo di ricerca e il sistema provvederà a trasformare in caratteri stampati i segni scritti di pugno. Diciamo che iPadOS 14 si focalizza proprio sul dare un vero senso ad iPad e renderlo effettivamente un dispositivo unico con funzioni esclusive che lo allontanano dall'ottica che fino a qualche tempo fa lo assimilava erroneamente a un iPod con lo schermo enorme. Oltre alle novità esclusive legate ad Apple Pencil il sistema trasforma il box di ricerca in uno spotlight avanzato che oltre a permettere la ricerca di app o voci correlate su internet adesso fornisce anche risposte a domande comuni su luoghi o persone come fosse una versione testuale di Siri. Anche per quanto riguarda iPadOS ci sono tante tante novità di cui parlare che però vi elencherò anche in questo caso in un video interamente dedicato. Passiamo adesso a WatchOS 7. Il nuovo aggiornamento porta su Apple Watch una funzione molto attesa dagli utenti ovvero quella che permette di tracciare il sonno durante la notte. Per quanto riguarda la questione batteria Apple ha ovviato al problema sfruttando l'intelligenza artificiale che apprende dalle nostre abitudini per suggerirci il momento migliore per caricare il dispositivo in modo che sia pronto poi per essere indossato quando andiamo a letto. Altra funzione molto importante di questi tempi è quella che rileva in automatico il lavaggio delle mani e imposta un timer affinché possiamo igienizzarle in modo opportuno. Entrambe le funzioni si interfacciano direttamente con l'app salute su cui registrano di volta in volta i dati per ottenere poi statistiche e migliorare le relative abitudini. Oltre a queste due funzioni fra virgolette più importanti sono state migliorate altre funzioni come l'appallenamento che adesso permette di tracciare nuovi sport ma anche il ballo in base agli stili come Bollywood, Latino o Hip Hop è stata aggiunta la possibilità di tradurre al volo frasi e parole con Siri esattamente come abbiamo già visto su iPhone e iPad e sono state aggiunte nuove complicazioni e quadranti pensate ad hoc ad esempio per i neogenitori o per i surfisti dove potrà tracciare rispettivamente l'allattamento sul primo e ottenere informazioni su vento, temperature e maree per il secondo. A proposito di quadranti, il nuovo sistema permette agli sviluppatori di creare facilmente nuove complicazioni e condividerle con gli utenti in modo da rendere quindi le possibilità di Apple Watch praticamente infinite. Unica pecca di Watch S7 che potrà essere installata solo sul Serie 3, Serie 4 e Serie 5 mandando definitivamente in pensione l'Apple Watch Serie 2. Ultimo ma non per importanza è sicuramente Mac OS Big Sur anzi dovrei dire che probabilmente è l'aggiornamento più corposo presentato durante l'evento ma anche l'aggiornamento più corposo mai presentato per quanto riguarda Mac OS. Mac OS Big Sur rivoluziona l'aspetto grafico del sistema e lo rende contrariamente alle aspettative molto più simile ad iOS e iPad OS. Sono state ridisegnate innanzitutto le icone che adesso appaiono tutte quadrate come le app di iOS e stesso discorso vale anche per le finestre e i vari menu altamente personalizzabili che adesso hanno uno stile che ricorda molto il centro di controllo di iOS ma anche per quanto riguarda i widget che come su iOS 14 anche qui sopra sono disponibili in varie misure e configurazioni. L'app ad ottenere il maggior numero di migliorie è stato Safari che con il nuovo aggiornamento sarà molto più veloce, affidabile e performante anche rispetto ad altri browser come Google Chrome. Safari adesso permette di riconoscere e tradurre istantaneamente siti web in sette lingue diverse, le tab sono state ridisegnate e rese più intuitive e meno ingombranti così da mostrare contemporaneamente ancora più pannelli e in più adesso è possibile scaricare le estensioni di varie app direttamente dal Makeup Store grazie ad un'apposita sezione dedicata. È stata migliorata l'app Messaggi che adesso è stata portata a livello della sua versione mobile con tutti gli effetti e le funzioni del caso oltre che essere stata ottimizzata anche qui sopra per quanto riguarda le chat di gruppo. Di Mac OS e Big Sur ci sarebbero davvero pagine intere da scrivere che per il momento trovate sul nostro blog all'interno di articoli interamente dedicati e che nei prossimi giorni cercherò comunque di portare anche qui sopra su YouTube con video più approfonditi. Oltre ai software più classici Apple durante l'evento ha aperto una parentesi anche per quanto riguarda il software dedicato ad AirPods. Il nuovo software permette adesso fra le altre cose lo switch automatico dell'audio fra i dispositivi, Mac compreso, dove adesso è stata aggiunta la stessa schermata dedicata che vediamo anche su iOS e poi è stata aggiunta una caratteristica molto importante che sfrutta il giroscopio ed altri sensori per offrire un'esperienza sonora dinamica e immersiva a 360 gradi. Purtroppo però quest'ultima novità resta esclusiva di AirPods Pro. La WWDC 2020 è stato anche il pretesto per Apple per annunciare finalmente la transizione ai Mac ARM per cui gli sviluppatori adesso dovranno scrivere oppure tradurre le loro applicazioni. Si tratta di Mac dotati di processori proprietari di Apple ovvero quelli della serie A montati storicamente su iPhone e iPad che saranno molto più potenti, sicuri e anche meno dispendiosi in termini di risorse rispetto a quelli attuali prodotti da Intel. Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori tre strumenti fondamentali per tradurre in modo rapido ed efficiente le loro applicazioni e renderle quindi compatibili con i nuovi Mac il cui passaggio inizierà con un primo modello probabilmente un MacBook nel 2021 e si completerà a detta di Apple nel giro di due anni. Fra i nuovi strumenti offerti agli sviluppatori c'è anche Catalyst ovvero il sistema già presentato lo scorso anno che permette di realizzare dei porting delle app per iOS e iPadOS in modo da essere utilizzate anche su Mac come fossero emulazioni su una macchina virtuale. Lo strumento adesso a quanto pare è maturo per essere rilasciato su vasta scala ed estendere finalmente il Mac App Store in modo da unificarlo con quello di iOS e iPadOS. Questo quindi è stato un riassunto molto veloce della WWDC 2020 io colgo l'occasione per scusarmi per quanto riguarda la diretta che purtroppo non è andata proprio come volevamo a causa di problemi tecnici che poi sono sorti all'ultimo minuto e che non erano sorti durante le prove fatte nel pomeriggio però è il bello della diretta sono errori che ci fanno crescere perché insomma ci aiutano a migliorare e capire come in futuro insomma affrontare queste difficoltà. Io voglio dire un grazie veramente enorme a Matt e Andrea che hanno salvato letteralmente l'evento riorganizzandolo all'ultimo minuto con risultati molto più che soddisfacenti quindi davvero un grande grazie a Matt MB4K e Andrea Bondetec e ancora scusa a tutti perché era mia responsabilità la diretta YouTube era mia responsabilità e non è andata come doveva. Saremo più provvidi la prossima volta non so cos'altro dire veramente Prima di chiudere vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace a questo video di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto ricordando di attivare le notifiche facendo un click sull'icona della campanellina e seguirci su tutti i nostri social Io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento al prossimo video sempre qui se spazio.